Ciao a tutti, sono Mario Popazzo Grande, è successo l'Apocalisse qua. Mi dispiace se non ve l'ho fatta vedere, ma se io ero nell'Apocalisse come facevo? Io sono Mario, vi conoscete tutti, sono sempre io, come vedete, in tutto il mondo. Sono un giapponese, però parliamo in italiano, e vengo dai videogiochi, vabbè, sì, dai. E poi, devo dire che mi piace questa vita. Comunque, sapete perché abbiamo tutti questi strani qui? È successo l'Apocalisse e non si è svegliato nessuno, comunque. Io so anche il Giappone, però l'inglese è tipo il Giappone, avete capito? So l'inglese, il Giappone, l'America, vabbè, l'America non c'entra niente, scusate. Non dite niente ai miei amici che sto registrando perché si comportano come pazzi. Quindi lasciamo stare questa volta. Comunque, oh, non so che cosa possiamo fare per ora. Speriamo che non si svegliano ora. Che vita! Ma perché sono tutti morti? Sembrano morti da qua. Non siamo morti. Siete svegli, allora? Ah, che ti interessa, tu? Vi immaginate se Mario riprende? E ti immagini se divento rosso per lì quando ti mangio? Oh, oh, ragazzi. Non sei sempre qua, ti ho fatto lo scherzo. Bene o male, infatti mi sono buttato dalle vergogne. Ciao, io sono Luigi. Perché mi sto presentando? Boh, se Mario sta riprendendo, io farei il pazzo. Ve lo ridico. Io farei il pazzo. Non sto riprendendo. Vero? Sì. Io non sto riprendendo. No, non sto riprendendo. Sì, no. Chi l'ha detto o no? L'ho detto io. Lei è Rosalinda? Rosalinda non la conoscete su Mario Galaxy si fa vedere alla fine, lei è Rosalinda. No, non si fa vedere alla fine, solo che quando perdi tutto il tempo c'era Rosalinda blu. Sì, c'è Rosalinda. Con le stelle. Con le stelle. Scusate, perché mi avete presentato? Non stai mica riprendendo, vero Mario? Eh, no. Volevo presentarti così, tipo al fio di fuoco che non lo sa. Sì, io non lo sapevo. Ah, bene o male. Ah, 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 ah. Quando Mario non capirà che qui io sono qui. Scusa, scusa, scusa. Io non ho visto niente. Bowser, ma che ci fai qui? Eh, niente, vattene. Aia, aia, aia. Scusate ragazzi, comunque. Il collare. Il collare mi si è staccato. Comunque, io non voglio far bene per Mario, voglio vivere con lui, così. Vabbè. Sonic, che ci fai qua? Tu fai parte della zona Green Hill. No, della Sega. Ma che te ne importa a te? L'ho buttato a Mario. Ciao a tutti, io sono Daisy. Daisy, super spi, non la conoscete sicuramente. Per esempio, il fiore di fuoco, te la presentiamo. Parlare in privato, scusate. Puoi dire? Allora, io sono Mario e parlo in privato. Praticamente, in realtà, noi la presentiamo al fiore di fuoco. Ma voi, pubblico, siete la miglior cosa al mondo. Per favore, mettete un like se lo vedete. Così abbiamo così tanti con tanti. Noi abbiamo bisogno, non so cosa sono i contanti per ora. Vabbè, lasciamo stare, non mi servono contanti. Lo sapete quanti ne conservo? In realtà, le contanti sono soldi, ma non mi servono soldi perché ne ho. Nel magazzino ne ho qualche due, due milioni e mezzo. Vabbè. Lei è la principessa Daisy, la fidanzata di Luigi. Ciao, Luigi. Vattene tu. Comunque, se Mario riprende, voglio farvi vedere la cosa più bella. Cosa? Dai, fai le flessioni. Cosa? Chi mi fa le flessioni? Sonic ti ho insegnato le flessioni. Ah, giusto. Ma Sonic, ma sapete qual è la fidanzata di Sonic? E c'è qua? No. Emi? Sì. Ma noi non ce l'abbiamo, Emi. Emi per ora non vuole venire, ragazzi. E lo sapete perché? Ma perché parlo al pubblico come se... Vabbè, lascia stare. Se Mario riprende, vabbè. Comunque, sapete perché Sonic non è fidanzato per ora? Perché la sua ragazza si trova in Cina. Bu, non lo so se si trova in Cina. Si trova nella zona Green Hill in questo momento. Però non ci importa un bel fico secco di ora. Ma io no. Io vivo nella zona Green Hill, stupido di cacca. Eeeh. Cacca. Peach, tu vuoi dire qualcosa? No. No, devi parlare. Mario forse... Perché? Tu presentati, scema. Stati zitto. Peach, sono Mario. Io. Presentati, io ti ammazzo. O tutti i contanti che abbiamo nel magazzino diventeranno contanti. E io li do a Mario Piccolo per comprarsi la Nintendo Switch. Ma ne abbiamo qualche... 3 milioni. Quindi i 3 milioni vanno per la Nintendo Switch. Anche per... Ma la Nintendo Switch costa 400 euro o 200? Io so quanto costa. Quanto? Lo posso controllare. Però la mi sto... Costa 200 euro forse. Perché mi devo presentare? Non stai mica mi registrando. Se il registro cosa dici? Spengo il video. Non lo sai spenni, ed è tanto... Vabbè, dai, presentati, pazza. Fai. Vabbè, dai. Ciao, sono Peach. Con i capelli biondi. Smettila, io devo parlare. Giusto? Sì. 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 Ok, ragazzi, vi devo confessare un segreto. Todd, tu vuoi dire qualcosa? Io so fare questo. No, io so fare una bella cosetta. Solo che... Purtroppo... Non so se farvela vedere. Mario, gliela faccio vedere. Sì. Sì, 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 sì. Beh, faccio vedere. È la mia arma segreta. Non faccio... Tipo... Tipo questo. Uaaaa! Faccio così perché faccio vergognare il pubblico. Ok, basta. Hopping! Volevo dire Todd perché... Hopping, in realtà, è un'altra... È una marca, ragazzi. È una marca? Sì, è una marca. La mia borsa si chiama così. Todd, quindi... Non chiamatelo più Hopping perché, io lo dico sempre, mi piace tanto la marca Hopping. No, io so... Io so perché lo chiamiamo Hopping, ragazzi. Lo chiamiamo Hopping perché... Vabbè, glielo ho spiegato. Prima... Prima non sapevamo come si chiamava Todd e lo chiamavamo Hopping. Esatto, la mia marca della mia borsa. Infatti avevamo pensato... Come lo chiamiamo? Hopping. Abbiamo pensato fungo, ma era troppo strano. Che mangolo... Tipo, sempre... Fungo, ciao, buongiorno. Come stai? Di infastitiva, forse. Quindi abbiamo chiamato questa marca della mia borsa. No, mi stufa perché... Quando dici... Udicete fungo. Sì, avete capito. Quindi vi devo dare... Vi devo confessare... Vi devo confessare una cosa. Non vi... Non impazzite. Sto facendo un video. Sto riprendendo. È successo un casino. Ve l'avevo detto. Ragazzi... Ok, basta. Vatti. Muti e vi do una... Mario piccolo, vatti a comprare la Nintendo Switch. Prendi la Nintendo Switch. Avanti. Aspettate. Nel frattempo facciamo... Vi faccio vedere la pubblicità, allora. Volete vedere la mia pubblicità preferita? Ve la spiego. La pubblicità di Luigi è la migliore. Anche se non la faccio mai. Vabbè. Vi spiego. È tipo... Mario piccolo, se comprate la Nintendo Switch Lite blu. Vero, fammelo vedere. Dai, dammelo. Voglio giocare a Mario. In realtà non è una Nintendo Switch Lite blu. Sapete che è un video gioco blu. No, è una Nintendo Switch. Sì. Ma... Wow. Guardiamo Mario Splatoon. No, no. Splatoon no. Io ci gioco. Che voglio fare? A Maker 2. E io. No, io. Io spazio Splatoon. Basta. Io l'ho comprata. Scusa, aspetta. Tutti i siti. Sennò da Rosalinda gli dico che deve attivare tutti i muti. Rosalinda, attiva quella cosa che fai fermare tutti. No, 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 no. Ecco. Adesso lo tengo a Nintendo Switch. Butto quello là. Questo qua. Ah, volete sapere un mio segreto? Io non ho il fidanzato. Va bene. Eeeh, finalmente. Eeeh, finalmente. Tranquillo, ti facciamo giocare. Prima Luigi ti deve fare la modifica Splatoon. Vuol dire Splatoon. Splatoon. Ve lo ricordate? Quello... Quello è la Nintendo Switch. Allora... Super Mario Maker. Io voglio Super Luigi Maker. Lo scarico. Super Mario Maker è lo Super Luigi Maker. Ok. Avanti, ammaccati. Avanti. Tutti. Nessuna connessione. Impostare la connessione sulla modifica della Nintendo Switch Lite. Nooo, io non lo so farmi. Stoppa andare all'impostazione. Lo faccio tutto io. Io lo so, Super Luigi. La vado a buttare. Addio. Nooo. La Nintendo Switch Lite. È morta. Attento, non mi rimetto dove lo fai. Eeeh, ragazzi, non mi immaginate se io avevo le scarpe blu invece delle scarpe verdi. Vabbè, dai. Ma le scarpe marroni. Non lo so perché ho detto verdi, perché siccome il mio colore preferito è il verde, Peach, tu devi dire il tuo colore preferito. Rosa. Adesso... Ro, 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 ro. Ragazzi, vi faccio un tema. Un tema dei miei amici. Il tema, non lo so se lo conoscete. Vabbè, il tema del mio amico. Lui è il mio figlio. Dai, presentati. Ciao, sono Mario Piccolo. Perché mi devo rappresentare? No, ah, giusto, sei recita. Allora, io sono Mario Piccolo. Senti, conosce lui e il mio padre. Mario Pazzo. Scusate. Io sono Mario Pazzo. Allora, io... Allora, stava il video. Voi non lo potete vedere a quanto può durare, perché poi si accumula la fotocamera. Comunque, dobbiamo chiudere adesso. Vi facciamo tipo un gioco. Cosa volete fare? Io voglio fare la popò. Todd, finiscila. Va bene, grazie di tutto per aver assistito a questo video. Che non è... Ok, chiudiamo. Ciao. Aspetta, aspettate. Vi devo dire una cosa. Anche se questo video è stato un po' grettino. In essenzio, vi abbiamo solo presentato i miei amici. Vabbè, dai, almeno vi ho presentato l'apocalisse, è stato così. Vabbè, ci vediamo al prossimo. Ok, sta scoppiando la fotocamera. Non scoppe. Fino a cuore... Vabbè, ciao a tutti. Salutate. Ciao. 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 E infine... Io non voglio salutare il pubblico, però dai. Ciao. Buona giornata a tutti. E ciao. Anche se è pomeriggio. Vabbè, buona giornata.